già cominciamo allora qui facciamo una piccola introduzione qui vi dirò che questo video qua questo video qui partiranno un sacco di donne è inevitabile perché parliamo di primo di prodigi parliamo di un gruppo una band inglese che io ho amato alla follia ma che qui vedete due dischi perché c'è un motivo allora perché purtroppo non potevo parlare di questo disco qui senza parlare questo e viceversa perché allora già ragazzi già mi viene voglia di trarre una serie di madonne che farebbero venire giù il lampadario ma fa forse anche tutto il palazzo cioè allora mettiamo un attimo da parte questo disco qui che molti di voi vedendo questa fantastica meravigliosa copertina avranno già capito tutto ma mettiamo un attimo da parte ci torniamo dopo perché dobbiamo parlare di questo disco di merda qui c'è allora questo qui che cos'è allora altra altra premessa saprò già che qualcuno di voi mi romperà i coglioni dicendomi figa ci parli di my coffee ci parli di vanghelli ci parli della potenza della musica delle emozioni che da e poi ci vedi ci viene parlare di prodigi i prodigi del cazzo sì assolutamente figa sì perché secondo me cioè secondo me allora dobbiamo dire questo bisogna capire che gli appassionati i veri appassionati di musica i veri cultori della musica non hanno genere per i veri appassionati di musica chi ascolta musica in una certa maniera chi dà importanza alla musica in una certa maniera cioè in una certa maniera nella maniera giusta che bisogna appunto dedicarsi alla musica per quelle persone lì e io mi ritengo uno di queste ve l'ho spiegato in anche in video precedenti non esistono i generi musicali cioè il vero appassionato di musica il vero il vero stimatore della musica non importa il genere il genere non è una cosa che non è importante il vero appassionato di musica il cultore della musica e conosce la qualità della musica della musica in tutti i suoi generi ma non non facciamo l'errore di considerare i veri intenditori di musica quelli che ascoltano solamente un certo tipo di musica non è vero un cazzo il vero appassionato di musica ripeto spazia tre generi cioè ascolta cioè ascolta passa da un estremo all'altro ma il vero appassionato di musica sa riconoscere la qualità della musica stessa in tutti i suoi generi quindi io mi ritengo un appassionato ascoltatore di musica di buona musica di musica di qualità e quindi a me dei generi non me ne frega un cazzo non me ne fotte un cazzo ecco chiusa questa premessa qui che andava fatta ma ripeto i veri appassionati gli appassionati di musica i della musica lo sapranno benissimo un discorso che si avranno anche loro avranno dovuto fare un sacco di volte per spiegare cosa vuol dire ascoltare e apprezzare la musica in una certa maniera ok torniamo all'oggetto di oggi parliamo di prodigi prodigi porca di quella puttana prodigi prodigi band inglese parliamo di genere musicale ovviamente nonostante quello che ho detto nella premessa che per l'appassionato di musica non esistono generi bisogna dire che la musica dei prodigi è un tipo di musica che assolutamente non è adatta a tutti cioè è una musica molto particolare è una sorta di diffusione di musica hardcore fusa alla musica techno fusa la musica dance è un miscuglio musicale che insomma è una musica particolare la musica non adatta a tutti io come dicevo detto tante volte mi reputo un appassionato di musica mi reputo uno stimatore della musica della musica della buona musica in tutti i suoi generi e quindi non ho non posso non aver amato i prodigi perché i prodigi i ragazzi miei vent'anni fa ventun anni fa hanno fatto questo fottuto che poi lavoro qua su cui torneremo fra un po cazzo dopo 21 anni 2018 questo disco qui è fresco è freschissimo è appena c'è l'ho appena ascoltato è nuovo di pack è stato pubblicato un mese fa è di novembre 2018 è il loro ultimo disco però ragazzi cioè io io veramente io non so non so come parlare di quel disco qua se non dicendovi che è una merda è un disco del cazzo cioè per tutto è un disco che dura 37 minuti cioè 37 minuti ma vi rendete conto cazzo ci sono degli artisti che fanno degli ep che durano 30 minuti non un album questo qui è un album che dura 37 minuti già mi girano i coglioni però allora vista la qualità produttiva e artistica di quel disco qua uno ci rimane anche male quando quando sente il disco e ci rende conto che sono passati appena 37 minuti ma poi ringrazia forse ringrazia anche dio perché 37 minuti di questa merda qua forse sono anche troppi cioè ragazzi questo disco qui è veramente un disco che secondo io dopo aver scontato un disco qua da grande stimatore dei prodigi di vent'anni fa di vent'anni fa che sono entrati per me con quel disco qua i prodigi sono entrati nella storia della musica nella storia della musica è inutile che mi venite dire ma che cazzo dici è un genere musicale molto tipico particolare non me ne frega un cazzo per la per il tipo di musica che fanno con quel disco qua fate of the land del 97 i prodigi sono entrati nella storia della musica punto con quel disco qua i prodigi nel 2000 nel novembre 2018 quindi un mese fa con quel disco qua io metto la parola fine ai prodigi perché per me quel disco qua è la loro fine è la loro tomba io metto una lapide su di loro dopo aver scontato quel disco qua metto una lapide sulla loro tomba una bella lapide con scritto su stronzi perché è una roba quel disco qua è un insulto è un insulto ai fan dei prodigi dei prodigi assolutamente è un disco che non è un cazzo è un disco che assolutamente vi farà rendere conto che i prodigi come sono adesso sono l'ombra sono il riflesso dell'ombra loro stessi è una roba a luci non c'è un pezzo non c'è un pezzo che soddisfa minimamente è una roba poi c'è un c'è questo pezzo qui ragazzi di questo pezzo qua boom boom tap che è una roba odiosa è inascoltabile c'è c'è un ritornello che vi viene voglia di prendere di lo stereo buttarlo giù dalla finestra è una roba in scolta c'è al limite dell'inascoltabile quindi c'è non c'è un veramente non non riesco a capacitarmi di come una band che ha composto questo capoloro qua vent'anni fa dopo vent'anni mi riesca a pubblicare un disco così piatto un disco così inutile un disco così di merda dozzinale per lo più che dù che dura 37 minuti cioè veramente non non ho non ho assolutamente parole cioè io non so quanti tra di voi eh conoscono i prodigi hanno ascoltato i prodigi hanno apprezzato non hanno apprezzato ma fatevi sapere il vostro commento perché io non riesco assolutamente a digerire una roba del genere cioè ripeto allora i prodigi con cui disco qua 21 anni fa del 97 hanno raggiunto il loro apice ripeto per me è un disco che entra nella storia della musica perché è un disco che ogni ogni collezionista di musica ogni appassionato di musica deve avere nella sua collezione perché questo qui è un disco storico lo dico e non lo nego un cazzo rompetemi i coglioni ma questo qui è un disco della madonna già dopo questo disco qui un po' erano calati ma mantenendo sempre un'ottima qualità il disco dopo di quest che ha un titolo lunghissimo e impronunciabile che non mi ricordo neanche è un ottimo disco non è un capolavoro assoluto come questo ma è un ottimo disco poi hanno cominciato anche loro a perdere un po' di verve a perdere un po' di sostanza hanno fatto altre due dischi eh tra cui il penultimo quello prima di questo qui è anche abbastanza recente credo che sia di un paio di anni fa eh il titolo mi pare che fosse the day is my enemy una roba del genere e quello precedente eh invaders must die anche quello lì allora quei due dischi lì invaders must die e il precedente a questo the day is my enemy erano già un po' fiacchi un po' deboli ma comunque cioè ragazzi mantenevano mantenevano il loro sound mantenevano la loro potenza sonora e non si potevano definire dischi orribili o comunque dischi insufficienti ma questo qui ragazzi questo qua c'è che cazzo non mi ricordo neanche più come cazzo si chiama come si chiamano no no tourist no tourist è anche un pezzo è anche un pezzo è anche un pezzo è anche il quarto pezzo no tourist è un disco che non dice un cazzo non dice un cazzo il disco qua è una cosa per il culo veramente è veramente una cosa per il culo per chi ha amato i prodisi fino ad ora è una roba allucinante veramente è un disco di fatemi sapere la vostra perché è veramente per me questo disco qua è veramente un meteorite che piove sulle loro teste sulle loro teste e li decreta completamente finiti morti caput cioè i prodisi non esistono più dopo quel disco qua io di prodisi non ne voglio più sapere quindi andiamo a fanculo con il disco qua e parliamo un attimo di questo qua perché almeno riempiamo un po' lo spazio del video perché sennò non saprei cos'altro dire su quella merda lì con una potenza disumana una potenza dirompente io mi ricordo che quando è uscito un disco qua non ero solito ascoltare musiche del genere non era non sono mai stato un partito della musica dance techno pur apprezzando qualche qualche singolo di ogni tanto fatto da qualche autore più o meno famoso ripeto mi piace la buona musica e quando quando ascolto dei generi musicali che non che non sono mai entrati nei miei nei miei generi preferiti nelle mie corde come proprio musica che ascolto molto molto volentieri però ho saputo sempre apprezzare quelle perle o comunque quei dischi o quei quei pezzi singoli di musiche di genere musicali un po' tipici come questi però ripeto pur apprezzando la musica di qualità non ho mai nel 97 quando ho mai non avevo mai diciamo ascoltato con foga o comunque con entusiasmo musiche di questo genere qua pur ripeto apprezzandone delle piccole perle uscite nel corso degli anni che ripeto un appassionato di buona musica sa riconoscere e punto bisogna dire che questo disco qui quando uscito non era una novità assoluta non è che è arrivato quel disco qua nel 97 è arrivato da un buco nero così di punti in bianco e tutti hanno detto cazzo che disco della madonna prodigi che cazzo sono stupendo meraviglioso no quel disco qui prima di tutto è un disco che contiene questi pezzi qui ma che se potete ben vedere ma sicuramente cioè chi conosce la buona musica saprà già cosa voglio dire quel disco qui è uscito esattamente un anno dopo questi due fantastici singoli qua che sono Firestarter cazzo chi è che non conosce Firestarter Firestarter è un pezzo della madonna e poi qualche mese dopo questo singolo qui che è uscito nel 97 i primi mesi scusate i primi mesi del 96 dopo qualche mese è uscito questo singolo qui che è Brit anche lui nel 96 mi parla novembre del 96 poi dopo un annetto dopo un annetto è uscito il disco è uscito l'album perché dovete capire che dovete sapere che questi due singoli qua Firestarter e Brit hanno venduto milioni e milioni e milioni di coppie ma perché sono due pezzi della madonna sono due pezzi che hanno di una potenza devastante cioè sono rimasti nelle classifiche per mesi 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 e mesi l'album questo album qui che comprende questi due pezzi qua che da soli valgono l'acquisto solamente per questi due pezzi qua dell'intero album dopo nel 97 inoltrato è uscito l'album è uscito l'album che tutti attendevano cioè tutti attendevano con un'aspettativa incredibile perché dopo aver ascoltato questi due pezzi qua che sono i due singoli portanti del disco che sono appunto Firestarter e Brit usciti nel 96 tutti si aspettavano un disco della madonna ed è arrivato un disco della madonna questo qui è un disco della madonna è arrivato il disco ed è arrivata è arrivato terzo singolo insieme al disco che cazzo cioè chi è che non conosce il singolo Smack My Beachop e il suo video cioè anche questo qui c'è uscito l'album già si portava dietro la legacy di due singoli ultramilionari ultra apprezzati di una potenza disumana poi è arrivato l'album che comprendeva il terzo singolo meraviglioso Smack My Beachop che è un pezzo ipnotico in una potenza disarmata cioè una roba stupenda cioè quindi ma poi è arrivato un album che nonostante contenesse tre singoli della madonna's tre singoli nella potenza disumana cioè l'album non c'è un pezzo brutto cioè l'album è una roba allucinante diesel power un pezzo della madonna funky shit serial trail mind feel naraia sono tutti sono tutti pezzi della madonna cioè è un disco qua è incredibile climatize e poi fuel my fire che chiude il disco cioè questo disco qua è una bomba atomica è una bomba atomica se voi se voi allora io cioè per paragonare per farvi capire la potenza la potenza che può avere su di voi un disco del genere cioè mi viene da fare questo paragone qua voi prendete una bomba a mano prendete una bomba a mano cioè chi è che non ha una bomba a mano in casa cioè tutti abbiamo una bomba a mano in casa ecco vorrei detto una granata una bomba a mano una bomba a mano la prendete voi prendete la sicura la spoletta la strappate poi lanciate lanciate la bomba lanciatela boh a dieci metri da voi boh poi lasciate che esploda bene se l'esplosione deflagrando non vi uccide boh vi arriverà un'onda d'urto incredibile che vi devasta però cazzo vi fa dire porca puntata cosa cazzo mi ha travolto qua cosa mi ha travolto ecco vi ha travolto quel disco qua vi ha travolto The Fate of the Land dei Prodigy del 1997 questo qui è un disco ripeto questo qua è un disco che entra di prepotenza nella storia della musica non della storia della musica di genere della musica hardcore della musica dance della musica tecno no no questo qui entra nella storia della musica punto ripeto sarà un rompicoglioni ma non me ne frega un cazzo dovete capire dovete capire merda e capolavoro merda e capolavoro cioè quando si ascoltano quei dischi del genere uno capisce ancora di più che un disco del genere è un capolavoro che entra nella storia della musica quindi quel disco qua se non l'avete mai ascoltato se non l'avete dovete andare fuori adesso immediatamente a comprarlo poi solamente per poi tenerlo lì poi vi verrà voglio un giorno di ascoltarlo e capirete perché quel disco qua è un capolavoro assoluto che entra di prepotenza nella storia della musica punto il discorso è questo qua non ci sono mica madone poi cazzo sfendiamo una parolina anche sulla copertina cioè guardate che copertina cioè è stupenda cioè è una copertina stupenda questo bracchio tutto colorato meraviglioso su questa spiaggia meraviglioso comunque allora non divaghiamo che adesso qua ripeto come vi avevo già anticipato all'inizio del video sarà un video cioè è un video purtroppo carico di carico di lusinghe e di entusiasmo per un disco di 21 anni fa che io considero assolutamente un disco da avere assolutamente nella propria collezione un disco che vi travolgerà dalle sue sonorità e della sua potenza inaudita potenza sonora però ripeto è un di è un questo qui è un video che purtroppo era partito era partito al solo scopo di commentare commentare purtroppo l'astio l'astio la tensione il rammarico che è derivato purtroppo dall'ascolto dall'ascolto di questo disco qui che purtroppo io ripeto dopo dopo cioè aver amato la follia un disco del genere io posso capire che vent'anni sono tanti cioè vent'anni cioè vent'anni non sono due anni vent'anni non sono due anni quel disco qua capolavoro assoluto del 97 ragazzi questo qui è di un mese fa di quest'anno io posso capire che una band un'artista possa cadere in declino ma non così tanto perché qui veramente come ho già fatto in altri video precedente è un paragone così simpatico quando si parla di si confrontano due cose cioè qui abbiamo abbiamo un masterpiece un capolavoro abbiamo champagne di whisky qui cazzo abbiamo qui abbiamo una pallida imitazione una pallida e lontanissima e sfocata e slavata imitazione di un disco del genere ma che mi fa veramente dubitare che un disco del genere sia stato veramente prodotto realizzato dalle stesse persone che hanno creato questo capolavoro qua assoluto cioè ragazzi purtroppo cioè fa male fa male a prendere queste cose qua ogni tanto cioè vedere delle band che hanno prodotto dei dei capolavori come un disco del genere e vedersi figa scimmiottare la loro stessa musica ripetuta all'infinito senza avere più un cazzo da dire confezionando un disco che poi dura 37 minuti ma cos'è ma cos'è ma non è possibile ma non è possibile ma non è possibile ma allora fai un EP fai un EP cazzo fai un EP ci metti dentro metà di questi pezzi qua un EP che dura 20 minuti mi viene a dire che boh ragazzi stiamo lavorando stiamo lavorando a un nuovo disco nel frattempo vediamo questa roba qui questa roba qua ci abbigliamo con queste EP di merda qua no tourist no tourist ma che no tourist ma qua dovevano chiamare quel disco qua no quality no quality no qualità ma è una merda è una merda porca di quella puttana ve lo dico ve lo dico mi piange il cuore mi piange il cuore perché io ho amato la follia prodigi io gli ho amato la follia e gli amo la follia io quando ascolto quel disco qui e quando ascolto anche il disco dopo che ripeto c'è un titolo che è lunghissimo è quasi impronunciabile non mi ricordo ma andate a vedere questo qui è del 97 il disco dopo credo che sia del 99 o del 2000 quando ascolto questo disco qui o il disco dopo di prodigi cioè io godo io godo io vengo travolto da una potenza musicale mi ha udita e mi viene la pelle d'oca figa quel disco qua non ti da un cazzo quel disco qui è una roba allucinante lo mettete su lo potete mettere su così tanto per far rumore alle casse per far muovere per sgranchire le casse dello stereo è una roba indecente è indecente ripeto è una presa per il culo è un insulto è un enorme insulto ai tuoi fan cioè ragazzi tu non puoi buttare fuori un disco così che dura 37 minuti con dei pezzi che non ti dicono un cazzo non ti dicono un cazzo poi tra l'altro porca di quella puttana che fino ha fatto il cantante il cantante di quel disco qua il cantante adesso non mi ricordo si chiama Kate qualcosa non mi ricordo ma il cantante che è arrivato con quel disco qui e che poi ha cantato il 90% dei pezzi di questo di questo il 90% no forse è stata una cazzata il 60% forse poco più della metà dei pezzi di quel disco qua sono cantati appunto il cantante che è questo questo fantastico individuo qua eccezionale Kate non mi ricordo come il cazzo si chiama cioè non c'è più qua non c'è più un cazzo qua le voci di cantante non ci sono più non c'è più una voce da cantante che canta i pezzi ci sono delle delle voccine di merda col vocoder tutte fatte con il potenziometro di merda non c'è più un cazzo è rimasta della musica dozzinale tecno di merda senza voce senza voci cioè non c'è un cazzo è un disco di merda è un disco di merda non c'è niente da fare cioè non so non so se mai avrò il coraggio e la voglia di darmi una mattonata sui coglioni riascoltandolo ma non penso proprio per me quel disco qua ripeto segna la morte definitiva dei prodigi il prodigi secondo me con quel disco qua è come se mi avessero dato boh noi non abbiamo più voglia di fare un cazzo non faremo più niente siamo finiti basta seppelliteci che non abbiamo più voglia di fare un cazzo siamo morti cioè io veramente non so non so che altro dire cioè parlando di prodigi torno a ripetere se non avete mai ascoltato quel disco qua andate fuori in negozio compratelo immediatamente lo trovate perché ne hanno ristampate milioni di coppie il disco qua è un disco che ha venduto milioni di coppie ma meritatamente perché è un disco è un capolavoro assoluto quindi cioè se andate se andate in in un negozio di dischi ma anche in un mega store tipo medio insomma lo trovate ancora perché è un disco che è ancora venduto adesso cioè è un disco è un disco della madonna cioè che altro dire quindi recuperatevi quel disco qua ascoltatevelo con la musica balle ascoltatevelo 150 volte alla settimana perché i prodigi i prodigi sono quel disco qua cioè non c'è niente da fare quel disco qua torno a ripetere io boh vorrei sapere la vostra perché io veramente non non saprei non saprei cos'altro dire di quel disco qua cioè guardate 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 il disco è anche il disco si è presente anche bene anche bello bella copertina digipack bello scuro dark bello con questo camion qui camion nell'ombra con le luci tourist il prodigi siamo tornati nuovo album stupendo fighi lo ascolti lo ascolti cazzo ti viene voglia ti viene voglia lo ascolti figa ti viene voglia di ascoltare un disco di cristina d'avena ma andate a cagare andate a fare un culo ma a cagare ascoltare di questo e mi ringrazierete datemi ret prodigi the fat of the land 1997 disco assolutamente da storia della musica non lasciatevi ingannare dei generi musicali sappiate come me sappiate diventare un ascoltatore di musica un appassionato di musica e sappiate riconoscere la bella musica in tutti i generi musicali non lasciatevi ingannare da chi vi dice che i veri esperti di musica sono solamente quelli che ascoltano la musica classica solamente quelli che ascoltano la musica melodica non lasciatevi ingannare da gente che vi dice che sono puttanate chi ama la musica se ne sbatte dei generi bene compratevi il disco ascoltatevelo e lasciate perdere quella merda fumante che è ormai finita sul pavimento di no turista 2018 perché i prodigi non esistono più i prodigi sono questo punto bene un saluto e al prossimo video